A Kate, alla principessa del Galles e al principe William è stato chiesto senza mezzi termini se avrebbero provato stasera dopo che la principessa del Galles ha cullato calorosamente un bambino durante la loro visita di un giorno in Irlanda del Nord.Il principe e la principessa di Galles sono stati colti alla sprovvista dopo che un fan reale ha chiesto sfacciatamente se la coppia stesse cercando di avere un altro bambino. L'incredibile scambio, che è stato poi condiviso online, è avvenuto mentre Kate cullava un bambino durante una visita a Carrick Ferguson durante una visita di un giorno nella provincia. La coppia ha già tre figli, il principe George, 9 anni, la principessa Charlotte, 7 anni, e il principe Louis, 4.La coppia è rimasta arrossata quando un fan reale ha chiesto delle possibilità del bambino numero 4, mandando i social media in delirio per il filmato. Una clip dello scambio è iniziata quando un fan chiede a Kate se vuole allattare mentre si offre di dare un bambino al reale. Kate sorride subito a William e risponde, mi piacerebbe moltissimo. William aggiunge, sempre più bambini, adora coccolare. Punto quando Kate dice al bambino che è così dolce, William concorda, è molto, molto dolce. A questo punto, un fan reale fa la domanda e chiede, ci provi stasera? Sia William che Kate ridono immediatamente alla domanda. Il principe di Galles sembra rispondere, sì esatto, è così che finisce. Un account di un fan reale su Twitter chiocciola Cambry Paolo ha definito uno dei momenti migliori della visita in Irlanda del nord di oggi. Molti spettatori hanno scherzato sul fatto che William fosse più riluttante di Kate quando si trattava della questione di un altro bambino. Paolo ha definito una domanda. 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 Grazie a tutti.